Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Linea Diretta. Oggi il nostro ospite è Attilio Gomito, lo vicepresidente vicario nazionale dell'Associazione Fanti. Buongiorno. Ovviamente parliamo dell'associazione, molti la conoscono, molti sono proprio protagonisti attivi dell'associazione stessa, forse qualcuno non sa esattamente cos'è, com'è nata e soprattutto le chiederei cosa fa oggi. L'Associazione Nazionale del Fanti è un'associazione d'arma di ex militari, cioè che si ritrovano in tempo di pace a svolgere delle attività. Nasce nel 1920 a Milano con la prima sezione per merito del capitano Fontana decorato della prima guerra mondiale e già da subito nello statuto ci sono i due aspetti, quello più legato alle cerimonie militari e quello invece legato al volontariato. A quel tempo il volontariato non era così diffuso come oggi, ma questo aspetto viene dal fatto che l'associazione nazionale si mette come punto di riferimento per quei militari, a quell'epoca non erano parecchi, che ritornati dalla guerra avevano bisogno di aiuto. Quindi si pone in questo senso proprio da subito come un punto di riferimento per quanti hanno bisogno di essere assistiti in qualche maniera. Cosa facciamo adesso? Forse oggi la parte preponderante è proprio quella del volontariato. Del volontariato, sì, anche se non dimentichiamo, è assolutamente un obbligo morale oltre che civile, perché ci stiamo rendendo conto che avere memoria delle cose che ci sono accadute nei tempi passati fa in modo che non si ripetano sempre gli stessi errori. Ma nello specifico dell'oggi diventa sempre più importante questo aspetto volontariale rivolto a 360 gradi alla comunità, nella quale le sezioni insistono e quindi in ultima analisi al nazionale, poi alla comunità nazionale. con l'assistenza agli anziani, gli interventi negli ospedali, nelle case di riposo, nelle parocchie, negli asili, nelle scuole materne, nelle scuole come proposta di incontro culturale in maniera particolare rivolta ai giovani delle terze medie per quanto riguarda noi, ma anche delle elementari, nelle quali nei due mondi diversi di questa scuola, le elementari, spieghiamo il perché dei tre colori nella bandiera. Lo facciamo anche qui a Tezze tutti gli anni, molto seguita, molto apprezzata anche dagli insegnanti e diamo un'impronta non del tutto patriottica, ma che abbia questo significato a questi ragazzi, mentre invece per le medie entriamo più nello specifico, visto che è materia di studio loro, proprio devono portarlo agli esami della terza media, la prima guerra mondiale. Posso chiederle se dovessimo parlare di numeri, quanti sono all'incirca gli iscritti all'associazione o quante le sezioni si sono diffuse fondamentalmente in tutto il territorio nazionale? Le sezioni sono 318 e i numeri sono bassi proprio a causa della dispersione, della coscrizione di fanteria. Certi del nord erano andati a far militare con quelli del sud e i 232 reggimenti dei quali era composta nella prima guerra mondiale la fanteria certamente non facevano raggruppare le persone, mentre invece gli iscritti ufficiali sono 14.800 a livello nazionale, ma abbiamo un grosso bacino di simpatizzanti, in maggior parte fanti, oltre che di gente che magari non ha neanche fatto il militare, che non vogliono farsi la tessera ma che sono lì, che lavorano con noi. Tra l'altra particolarità della vostra associazione è quella di avere anche una folta presenza femminile in questo ambito, nel senso che spesso se noi pensiamo agli alpini si vedono solamente gli uomini oppure quelle donne che negli anni più recenti sono state se stesse alpine, nel caso vostro invece siete più aperti in questo senso. Ma è stata anche una necessità sentita da, possiamo risalire al 1960, quando sono state per la prima volta istituite, il merito è del Comendatore Marcello Mantovani, ex Presidente della Federazione dei Fanti di Vicenza, per lunghi anni meritevole del nostro affetto, della nostra stima per quello che ha fatto per l'associazione. Ha sentito questa necessità perché di uomini impegnati tutte le domeniche in manifestazioni, a quel tempo si andava anche fuori in provincia, erano disgreganti nei confronti della famiglia e quindi l'idea era stata allora quella di dire ci portiamo dietro le signore ma ci portiamo dietro in maniera istituzionale e quindi mettiamo assieme questo gruppo di donne che dovevano avere anche un aspetto di volontariato e di fatti l'assistenza sociale la fanno loro perché noi uomini non siamo adatti a fare l'assistenza sociale. Ma invece tra le cose che voi avete come particolarità, sto pensando alle manifestazioni, esiste ancora la festa della famiglia. Esatto, abbiamo anche qui avuto uno scatto in avanti rispetto ad altre situazioni e la festa della famiglia che viene fatta per zona e quindi quello che abbiamo celebrato il 3 di aprile se non ricordo male la data a Tese sul Brenta con la presenza di oltre 250 fanti con la famiglia è proprio per dire noi comunque fra i nostri valori il più importante abbiamo la famiglia. Dicevamo di quello che è oggi l'associazione delle operazioni di volontariato, tra queste si diceva oltre al volontariato quello della memoria, del ricordare ciò che è stato e quindi in questo triennio 2015-2018 si parla del centenario della grande guerra e ovviamente ricordare tutti i fanti che sono stati protagonisti di questo episodio per quanto triste ma importante della nostra storia per voi è diventato un dovere, sono tantissimi gli appuntamenti che avete in questo triennio. Sì, e abbiamo iniziato nel 2014 per la verità con il raduno di Vicenza, il raduno dei fanti che abbiamo organizzato a Vicenza. Perché? Perché la guerra mondiale, la prima guerra mondiale scoppia il 28 luglio 1914 a causa dell'attentato di Sarajevo nel quale l'arciduca ereditario dell'impero austro-lucarico viene assassinato. L'Austria reagisce e quindi inizia questa guerra che è stata tremenda, la prima mondiale, la prima combattuta con mezzi di distruzione, la prima con tecniche diverse. In quell'occasione lì noi a Vicenza abbiamo detto, se dobbiamo pensare al centenario, cosa che avevamo programmato già da tempo, lo facciamo proprio con il 2014, con il raduno di Vicenza e cosa abbiamo fatto lì? Abbiamo organizzato una mostra visitata in 12 giorni da oltre 30.000 persone, 33.000, nella quale si raccontava tutto l'iter dalla partenza del soldato al ritorno del profugato in sei quadri molto significativi. Ed è stato l'inizio della rievocazione, poi durante tutto il periodo che va fino al 2018, quindi al 4 novembre del 2018, abbiamo una serie di manifestazioni che sono continuate nel 2015 con Montepiana, che è stata la prima battaglia del nostro esercito subito dopo la dichiarazione di guerra per scendere a Cortina con il passo Vezzena, dove al Col del Basson, c'è stata il 24 di agosto del 1915 una battaglia tipo 1800, nella quale il generale che era lì, che comandava la brigata Treviso oltre altre brigate, la brigata Treviso la più provata in quella occasione lì, il terzo reggimento, cioè il 155esimo reggimento, il terzo battaglione in particolare, ha perso 1048 soldati in sette ore di lotta stupida, è il caso di dirlo, ma si vede sicuramente dopo tanto tempo così, si può giudicare… Un certo momento veniva vissuto di essere… Lei era ricostretto e ci doveva andare, ma continuerà quindi nel 2016 proprio qui da noi, perché qui c'è stata la strafe expedition, noi la ricorderemo come in Val Magna Boschi intanto speriamo di riuscire ad avere il console inglese presente. Perché ricordiamo che in Val Magna Boschi è presente oltre a un cimitero italiano, la presenza di un cimitero inglese e se non sbaglio anche di un cimitero solamente italiano e inglese, tra l'altro se uno va a vedere è completamente diverso da quelli che sono le nostre… Sì, i nostri modi di vedere, quell'aspetto della pietà poi dopo la morte, gli inglesi non si portano a casa i soldati che hanno sparsi in giro per il mondo, però curano in maniera particolare i cimiteri ed è anche bello andarle a vedere da un certo punto di vista, perché si vede che la civiltà del popolo si manifesta anche attraverso questi atti di pietà. Per cui la cura del cimitero che c'è in Val Magna Boschi e di quelli inglesi sull'alto piano di Esegno mi pare che sia affidata proprio ad una… A le famiglie che vengono contattate e stipendiate dal governo inglese. Val Magna Boschi, dicevo, però gli inglesi sono arrivati nel 1918 in Val Magna Boschi, 1918, quando dopo la ritirata di Caporetto ci hanno dovuto dare una mano sia inglesi che francesi perché l'esercito italiano aveva una gran batosta, una gran botta per cui sarebbe stato impensabile riuscire a sostenere gli urti che poi un esercito austriaco, nonostante la vittoria di Caporetto altrettanto provato cercava di darci per riuscire a terminare quel conflitto che 41 mesi insomma sono tanti. Dicevo Val Magna Boschi, poi continueremo su Atonesa del Cimone nel cimitero dei Crosati alla metà di luglio, il 17 luglio, poi continueremo ancora in Pasubio l'11 settembre, sempre con il stesso intento di ricordare i nostri caduti, che in Pasubio tutti quanti siamo abituati a considerarlo il Monte degli Alpini, ma in Pasubio abbiamo avuto 29 mila fanti caduti e quindi la presenza di 14 brigate durante tutto il conflitto di fronte a 7 battaglioni di Alpini presenti nei vari episodi delle battaglie. Con questo non parlo di valore, il valore è una cosa a parte, parliamo di numeri e di presenze, quindi anche da quel punto di vista lì il Pasubio ha visto come ha visto tutto l'arco della guerra, i 41 mesi di guerra, si potrebbe dire che la guerra è stata combattuta dai fanti, che poi dopo gli Alpini sono fanti in fin dei conti come i bersaglieri, i granatieri. Complessivamente quanti fanti sono stati persi durante la prima guerra mondiale? 500, 2 mila e se non ricordo male 700. Sì, quindi una cifra impressionante. Il 75% di tutti i caduti, il 72% di tutti i caduti, per cui sì, lo sforzo, ma era anche naturale che sia così, perché se l'esercito era fatto in maniera particolare da fanti venivano impiegati i fanti, che poi dopo fra queste divisioni e brigate ci fossero anche fra i fanti quelle di montagna piuttosto che quelle di pianura, cambia poco voglio dire, il soldato italiano ha fatto l'enorme sacrificio che è costato 680 mila morti durante la prima guerra mondiale di tutte le armi, quindi questo è il dato ufficiale più importante per il quale tutti quanti dovremmo sentirci fieri di essere italiani, perché a un certo punto della guerra era partita un po' come un'avventura cavalleresca, sull'entusiasmo ancora delle guerre del 1800 per la liberazione del nostro paese dalla schiavitù, tra virgolette, dell'impero austro-ungarico e per l'unità d'Italia. È considerata quindi la prima guerra mondiale come la quarta dell'indipendenza aveva questo valore così ancora quascone di un certo modo di condurre la guerra. Poi invece fra la fine del 16 e l'inizio del 17 le truppe hanno incominciato a chiedersi se valeva la pena. Si è presa consapevolezza di quello che stava accadendo. Si valeva la pena perché quella famosa espressione odiosa, odiata, carne da macello riferendosi ai soldati, però era quello che sembrava di leggere, anche adesso chi va a leggere i libri di storia si rende conto che molto spesso, soprattutto nel 17 dove avvenivano battaglie, compresa quella dell'Orticara, solamente per fiaccare l'avversario. Fiaccare l'avversario è un'espressione che dice che non c'è mai stata, almeno nei nostri comandi, l'idea di una guerra di movimento, ma di staticità e lì si riusciva in qualche maniera a soprafare l'altro se avevamo più armi, più numeri, posizioni migliori. La stessa cosa dall'altra parte in fin dei conti, una svolta la si vede a Caporetto quando gli austriaci aiutati dai tedeschi mettono in pratica una nuova tattica di guerra che ci sorprende. Io Caporetto non la chiamerò mai una disfatta, ma una ritirata, perché se disfatta presuppone, il termine presuppone che da lì non si è più realizzato nessuno, invece il nostro esercito ha aiutato appunto poi dopo quando si sono resi conto che resistavamo da inglesi e francesi nel 1918. Quindi, ritornando a noi in Pasubbio, faremo questa su proprio dove abbiamo recuperato il cimitero militare del 157esimo reggimento di fanteria all'arco romano, faremo la cerimonia, l'ultima in ricordo della strafe expedition nel 2016. C'è un appendice a questo che riguarda una cosa che abbiamo organizzato un po' con il comune di Tonesa del Cimone, che farà in modo che rievocheremo la mina austriaca, che gli austriaci… Ah, quindi ci sarà una vera e propria esplosione. Il 23 di settembre faremo addirittura, d'accordo con tutte le autorità della Vallata naturalmente, perché sarà un disturbo anche se è una rievocazione storica precisa, scoppiare alle 5.45, lo stesso orario nel quale è scoppiata quella mina, un grosso petardo che darà l'idea. Ma lì avremo anche le scuole che vivranno questo modo di proporre quell'evento e poi faremo un concerto bandistico di musiche inerenti all'epoca, non solamente militari. Ci saranno degli storici che spiegheranno a questi ragazzi che riusciremo in qualche modo a portare su. Cos'è capitato? E perché è capitato? In queste manifestazioni che abbiamo capito in prevalenza saranno nel nostro territorio, è prevista la partecipazione di Fantina Riva un po' da tutta Italia? Sì, sì, sì. Di fatti adesso stiamo lavorando proprio perché sarà il 19 di giugno per Valmagna Boschi. Abbiamo già diramato tutti gli inviti a tutte le sezioni d'Italia, in maniera particolare a quelle dell'Italia settentrionale e abbiamo già mandato il programma e quant'altro, insomma, tutto quello che serve per che ci siano presenze. Chiaro. Prima però quest'anno avrete un appuntamento importante che nel caso appunto dei Fanti è biennale, se non erro, ed è quello del raduno nazionale. A Brescia, sì. Sì, noi siamo abituati a vedere le adunate degli alpini spesso, non la maggior parte di noi, sa come sono fatte. Se dovessimo spiegare a chi non ha mai visto come si svolge invece un raduno nazionale dei Fanti? Ma, presso a poco, tenendo conto che appunto la coscrizione, come dicevo all'inizio, dei Fanti riguarda un po' tutta quanta l'Italia, gli alpini solamente qui in questi ultimi tempi hanno una coscrizione italiana dovuta al volontariato, adesso l'esercito è di volontari, prima invece era ben precisa in zone della nostra Italia settentrionale, in maniera particolare più l'Abruzzo, perché non dobbiamo dimenticare il gloriosissimo Battaglione Aquila, loro hanno questo aspetto nel quale è molto più radicato il territorio. Noi stiamo facendo la stessa cosa, però è un po' più dispersivo nel senso che avremo anche noi la rappresentanza militare, quest'anno sarà del 66esimo reggimento di fanteria, mentre la banda militare sarà della brigata Pottuolo del Friuli. Quindi ci saranno soldati in armi? Sì, ci saranno soldati in armi, le crocierosine volontarie, poi dopo c'è il reparto storico e quindi siccome la fanteria esiste dal 1624. Abbiamo parecchie bandiere gloriose che portiamo alle nostre sfilate e abbiamo anche dei standardi che ricordano quei reggimenti di fanteria più decorati, fra questi c'è l'84esimo Venezia che di medaglia d'ore ne ha avuto tre nella sua storia e portiamo solamente quelli che ne hanno due o tre, perché se dovessimo portare anche gli altri non finirebbe più la sfilata di reggimenti che hanno medaglie d'oro, infanteria sono 86, lo dice anche il nostro medaliere. Poi c'è tutta quanta la serie delle sezioni a partire da Milano per arrivare fino in Sicilia e in Sardegna. Il Veneto sfila per ultimo di solito, dopo di noi facciamo sfilare la federazione che ospita il raduno nazionale, quindi quest'anno toccherà a Brescia. È già stato stabilito invece chi toccherà dopo Brescia ovvero nel 2018, quindi a chiudere anche tra l'altro il triennio del centenario. Sì, sì, perché avevamo già indicazioni circa nel 2010 che ci sarebbe stata questa manifestazione organizzata così e c'era comunque Vittorio Veneto e nel 2010… Sì, non una città a caso, insomma per il 2018. Sì, c'era Vittorio Veneto, ma lì ci saranno tanti delle associazioni d'arma che faranno il loro raduno lì, perché il Comune è stato costretto a causa di questo a mettere delle postazioni fisse e far fare a tutti lo stesso percorso in maniera tale che non si stravolga con una decina di raduni nazionali, la città insomma, che non si dia più di tanto fastidio perché in ultima poi dopo significa che in quel giorno lì la vita della città viene ridimentata. Stravolta, sicuramente. Prima lei accennava al tricolore e a come il nostro impegno sia quello di spiegarlo alle giovani generazioni e di insegnare loro quello che è il significato, insomma non solo dei tre colori ma proprio della bandiera stessa. Il 29 maggio a Bassano ci sarà un appuntamento importante che riguarda proprio il tricolore e che vedrà protagonisti di Rattifanti. Fra gli altri certamente questa bandiera ideata a Modena, lunga 1779 metri, che praticamente sono le cifre dell'anno nel quale è stata ideata la bandiera italiana in Greggio Emilia, no? Larga 4 metri, del peso di 5 quintali. Infatti si cercano ancora volontari per sollevarla. Si cercano volontari per sollevarla perché impegna per essere trasportata 800 persone. Un bel gruppo sarà di Fanti, mi auguro che altrettanto siano gli altri in maniera tale che si trasformi questa manifestazione che all'inizio era solamente così, per la celebrazione di un centenario, quindi abbastanza, senza un punto di riferimento preciso se non quello della bandiera, in una festa patriottica che si innegi finalmente al tricolore e si lasciano a casa altre bandiere che non sono pertinenti. Posso chiederle come associazione Fanti cosa state facendo? Penso che il lavoro con le nuove generazioni vada anche in questa direzione per mantenere viva un'associazione che come le altre, non è che l'associazione alpine diversamente, faticano ad avere nuovi iscritti perché sappiamo fino a quando comunque la leva era obbligatoria, uno aveva anche questo senso di appartenenza ad un corpo e rimaneva anche una volta finito il periodo del militare, insomma a far parte da meno di un gruppo, forse anche solo per frequentare gli amici una volta all'anno. Oggi diventa difficile per tutti, immagino anche per un'associazione come la vostra. Beh, io partirei da un dato di fatto e cioè, l'ho detto anche a teze e sui brand, alla festa della famiglia, c'era il generale Rossi con il quale mi sono scusato per quello che stavo per dire, ma è così, comunque non è che ci dobbiamo nascondere dietro alle dita, no? Quando noi eravamo a militare, quindi fino al 1992 all'incirca, il nostro era chiamato servizio militare, non ferma volontaria ed eravamo in servizio 24 ore al giorno, non avevamo prerogative di alcun tipo e sapevamo che il nostro incarico, io per esempio ero capopezzo ai mitralieri, anzi specialista del tiro ai mitralieri, era fuori, era una specializzazione che dovevamo prendere durante le 24 ore nelle quali prestavamo servizio. Qualsiasi cosa succedesse a livello nazionale, piuttosto che a livello locale, i militari erano pronti ad intervenire, succedeva spesso, non magari per questioni di spessore, ma insomma succedeva spesso che venissero a chiamarci, la ronda ci veniva a chiamare quando eravamo in libera uscita per rientrare a dover fare un certo tipo di servizio, oggi non è più così, ma il volontariato probabilmente nasce lì, nasce da questo aspetto della naia, così come si chiamava allora, che era a disposizione dei cittadini, era a disposizione della patria se vogliamo, no? Questo deve rimanere, questo deve rimanere perché è una ricchezza per la comunità, è una ricchezza per la comunità, basta chiederlo ai sindaci, se non avessero il volontariato, di qualsiasi tipo sia, molto spesso i comuni sarebbero in difficoltà. come si coniuga quindi il nostro aspetto del ricordo, della glorificazione addirittura è scritto nello statuto dei fanti, dell'arma di fanteria e del ricordo delle battaglie e degli eroi che in battaglia sono morti, con l'aspetto invece del volontariato. Possiamo dire che è nel nostro DNA perché come ho detto all'inizio già nello statuto del 1920 si parla di volontariato anche se in senso lato. Oggi bisogna approfondire di più questo aspetto, no? Bisogna essere più disponibili perché le necessità sono tante, ma è anche, secondo me, e lo sto vendendo anche a livello nazionale, nei consigli nazionali nei quali parliamo di queste cose per organizzarci, è il nostro futuro volontariato. Se noi ci adagiamo a fare solo ed esclusivamente quello che compete a un'associazione d'arma, restando ristretti all'interno del nostro gruppo, prima o dopo una volta che sono passati tutti quelli come me, che hanno fatto il militare non abbiamo nessuna possibilità di andare avanti. Invece col volontariato possiamo essere ancora presenti portando i nostri valori, che non sono secondi a nessuno, all'interno delle comunità nelle quali lavoriamo. E allora in chiusura le chiedo proprio questo, se qualcuno volesse a questo punto entrare a diventare parte attiva, magari è stato Fante e quindi potrebbe essere proprio un iscritto diciamo ufficiale, oppure un socio sostenitore o un amico dei Fante, adesso io non so, le varie terminologie che vi si possano utilizzare, cosa può fare, come può contattarvi e diventare membro attivo della vostra associazione? Noi siamo presenti in 41 comuni della provincia di Vicenza, parlando da noi e in 318 del nazionale, basta contattare una sezione, la procedura è semplicissima, l'unica cosa che chiederanno è se si è disponibili al volontariato, dove si è fatto il militare, qualora non si fosse fatto, se condividono con noi i nostri valori e quindi ci sarà uno scambio di idee perché non siamo disponibili a prendere chiunque, chi viene da noi deve avere chiaro che noi siamo prima di tutto patrioti e poi siamo anche il resto. Chiaro, e ovviamente l'invito è aperto anche le donne, mi pare di aver capito, giusto che sono anche indispensabili, sei capito, per quel che riguarda il volontariato e le sociali. Sì, sono un 20% della forza nazionale, veramente qui abbiamo in Vicenza il gruppo delle patronesse, la Presidente si chiama... Giusto, non è il padrone, giusto, non sono il padrone. Sì, si chiama Nadia Giacomoni, abita a Caldonio, che si danno veramente da fare, tanto è vero che stanno sostenendo, fra le tante cose che fanno, perché devo dirle tante, il mezzanino per esempio a Vicenza, che è una mensa per chi non ha possibilità e in maniera particolare tanti italiani, è ancora più particolare questo aspetto il fatto che fra questi ci sono tanti di quei padri che si sono separati, che devono pagare gli alimenti e non ce la fanno, non sanno dove andare a mangiare, ma lo sostengono fattivamente proprio dal punto di vista dell'acquisto dei generi alimentari, piuttosto che l'altro aspetto del volontariato all'ospedale, piuttosto che nelle case di riposo. Loro sono il nostro lungo braggio per l'assistenza, noi facciamo più volentieri i lavori di altro tipo come uomini. Comunque diciamo che basta condividere giustamente quelli che sono i principi base della vostra associazione e le porte sono aperte a tutti. Allora intanto io ringrazio ovviamente Attilio Gomitolo per essere stato nostro ospite e averci fatto un po' entrare in questo che è il mondo dei fanti e vi invito per il 22, il prossimo appuntamento è proprio il 22 di maggio a Brescia, allora per questo raduno nazionale, così potrete vedere esattamente qual è il mondo dei fanti e chissà magari un giorno insomma entrare a farvi parte. Che fra le altre cose così una notizia che potrebbe invogliare qualche altro che non sia fante ad essere presente è nei giorni della Mila Emilia. Quindi insomma uno approfitta, due manifestazioni, un solo giro diciamo così, Brescia dopo tutto non è neanche lontano per noi veneti, insomma si può fare. Grazie ancora Attilio Gomitolo, oggi Linea Diretta finisce qui, arrivederci, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, ciao! 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 Ciao a tutti!